ciao a tutti da vittorio è stata una domenica lavorativa per me perché ieri sera mi ha chiamato un giornalista dall'inghilterra mi ha chiamato per chiedermi informazioni sulla lazio questo giornalista è quello che ve l'avevo detto la scorsa settimana della esclusiva su za non so se vi ricordate non so se avete visto il video comunque sostanzialmente questo giornalista ha scritto la scorsa settimana che za aveva accettato o era incline ad accettare l'offerta della lazio è interessato ad andare ai bianco celesti e quindi ieri mi ha telefonato chiedendomi se in italia si parlasse della situazione za alla lazio e io ho detto molto onestamente che onestamente correggetemi i commenti se sbaglio di za alla lazio non si parla tantissimo per un là domenica o sabato ho scritto che za rifiutato un'offerta dall'arabbia saudita però nessuno ha parlato di za vicino alla lazio se non appunto questo sito inglese tant'è che sabato pedulla ha parlato addirittura di politano politano scelta principale della lazio comunque prima mossa della lazio per prendere l'esterno destro devo dire che politano non mi fa impazzire non mi fa impazzire perché politano è della roma primo e non lo so non ha giocato male col napoli ma è un giocatore che si fa spesso male è spesso stato fuori per infortunio berardi mi sembra un giocatore di un altro livello sì è anche vero che politano non è neanche giovanissimo no neanche a dire sai prendo un 22 n sì berardi ha fatto più gol ma questo è giovane può crescere no politano è anche là con gli anni tra virgolette per cui non è neanche un giovane che dici può crescere eccetera ovvio sembrerebbe che il napoli chiederebbe una cifra molto più bassa si parla di 12 15 milioni di euro per cui ovvio che sarebbe inferiore alla richiesta del sassuolo per berardi però politano non mi scalda il cuore ecco a quel punto preferirei za e però dall'italia non rimbalza niente io ho detto a questo giornalista che purtroppo dall'italia non c'è nessuna notizia di za lui sta indagando perché proprio in questo weekend sembra che za possa firmare col crystal palace restare al crystal palace anche se era tentato da giocare la champions league con la lazio per cui teniamo aperta anche la pista za per l'esterno d'attacco della lazio io politano non ci conto molto e spero che non venga onestamente perché ripeto non è un giocatore che mi fa impazzire non è scarso intendiamoci non è che stiamo prendendo un gioni tanto per fare un esempio prendiamo un buon esterno speravo di prenderlo più giovane perché stiamo discutendo di berardi in l'arco gli anni politano se non sbaglio a 30 anni per cui è anche più vecchio di berardi costa di meno però un giocatore che ha inciso di meno è stato spesso infortunato anche berardi è stato infortunato ma politano ha una storia di infortuni molto importante per cui io devo dire che fra politano e berardi andrei su berardi sembra tramontata la pista orsolini almeno questo è quello che ci raccontano gli esperti di calciomercato però staremo a vedere c'è da dire una cosa sono usciti tanti 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 nomi legati al mercato della lazio perché perché secondo me senza glitare gli esperti di calciomercato non hanno più la loro talpa chiamiamola così stiamo vedendo che quelli che hanno seguito per anni calciomercato biancoceleste stanno in difficoltà perché stanno sparando tanti nomi ovvio che prima o poi uno lo prenderanno perché se ne butto 15 beh probabile che uno di quelli sia quello vero però ne sono usciti tanti troppi nomi io non credo che la lazio abbia seguito veramente berardi orsolini zapo litano e cito solo i più noti ma ne sono usciti almeno altri 4 5 no ecco per me il fatto che la lazio ha cambiato radicalmente struttura non c'è più tare probabilmente qualche gente che lavora a ricottare non sta più lavorando con la lazio e quindi molti esperti di calciomercato brancolano il buio e stanno tirando tanti nomi a caso poco veramente non cercati dalla lazio saremo a vedere a me politano non piace anche è vero che gli ultimi nomi tirati fuori da di marzio non sono mai andati in porto no l'ultimo chi era d'ambrosio sembrava vicinissimo alla lazio diceva di marzio e per fortuna non è ancora stata chiusa la trattativa addirittura la lazio avrebbe smentito un interesse per d'ambrosio e quindi può essere che anche l'ottimo di marzio sia un po in difficoltà per quanto riguarda la lazio saremo a vedere come evolve sicuramente l'esterno destro è un ruolo importante per la lazio perché numericamente siamo corti perché sarri ne ha bisogno e poi in base a quello si andrà a prendere il centro avanti anche se sappiamo che c'è già un nome e magari ne parleremo nel prossimo video tu intanto metti mi piace a questo video e condividilo con gli amici aiutami a crescere il canale grazie 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 grazie